benvenuti a tutti siamo sempre sulla fuga come spiegato ieri nel video precedente vi faccio vedere un attimino allora opzioni ok niente allora adesso dobbiamo scappare come avete visto ieri incroceremo un'altra funilia piena di tedeschi sono riuscito a mettere il mirino vedete con questo tasto qui perché questo mirino è un mirino che in questo momento dove affronteremo l'altra funilia che arriverà ad incrociarsi sul lato sinistro dobbiamo assolutamente cercare di come dire di uccidere quei tedeschi sua funilia non sarà facile avete visto video di ieri sera è veramente difficile proviamoci abbiamo da scendere sotto e stare sopra l'unica alternativa è questa vediamo cosa succederà e si va loro arriveranno quindi sarà veramente difficile poterli poterli fermare adesso dando ecco qua devo cercare di ucciderli subito ma non è non è facile io ve lo dico ci spostiamo leggermente ma il raggio d'azione veramente ristretto in questa ce n'è uno qua sopra che andiamo subito ad ammazzare l'ho disattivato la corrente devo riattivarla di E' un casino Ne arrivano una marea Preso L'abbiamo ammazzati tutti Ma dobbiamo attivare la corrente Adesso andiamo qui sopra Vediamo Vedete questo mirino Ok Adesso per riattivare la corrente Dobbiamo andare Così Mamma mia ragazzi Siamo al massimo delle munizioni Siamo passati in un'altra funivia C'è ancora gente Occhio eh Arrivano Ne abbiamo un bel po' eh Eh io ve lo dico Ne avremo un bel po' anche qua Da ammazzare Vediamo cosa riusciamo a fare Via la testa Questi devi solo sparargli in testa Oh scheiße bene, 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 eh, dobbiamo scappare una corazza, ecco, sono sicuro che lì ce n'è, ce n'è ancora comunque, ancora tedeschi, io opto per ammazzarli prima tutti, poi vediamo, andiamo a prenderci intanto sta corazza, niente, dobbiamo entrare qua dentro, io li voglio ammazzare, piano, casse, qui cos'è, munizioni al massimo, abbiamo ammazzato in tantissimi, ne abbiamo ammazzati, attenzione perché adesso andremo incontro all'inferno, e voilà ok madonna mia ma vai a fa' ancora bene, 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 siamo, abbiamo fatto un buon processo, un buon cammino, seppur non, ah, qui c'è da, da muovere questa funivia qui, quindi, adesso veramente, sarà un delirio, eh, ok, andiamo e arrivano, occhio, andiamo a aspettarli di qua ok a a a Ah! Bene bene Ce n'è ancora? Devo cercare munizioni io di questo fucile eh che non ne abbiamo, abbiamo attivato la corrente adesso dobbiamo vedere dove dobbiamo andare ok queste non sono armi che servono a noi perché abbiamo tutto pieno quindi attenzione da questo lato e ce ne andiamo perfetto mi aspetto mi aspetto qualcos'altro mi aspetto qualcos'altro mamma occhio devo uscire trovo un'altra via per il ponte mamma mia devo uscire ma porca puttana guarda che roba non 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 niente boh è un problema come si fa a uscire di qua non è che c'è una botola ah c'è la botola porca 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 picchia non vabbè siamo in acqua oh cristo no dove cazzo devo andare qua no no ma ragazzi dove devo uscire di qui ok ecco dai ecco dai ok siamo riusciti rifacciamo un altro video a dopo ecco